Amadeus ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto degli interessanti spoiler sul Festival di Sanremo 2023 ed ha parlato anche di Fiorello. Vediamo cosa ha detto. Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e Amadeus, conduttore e direttore artistico della Kermess, ha fatto delle confessioni molto interessanti sulla trasmissione. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni il conduttore ha parlato anche dell'ipotetica presenza di Fiorello all'interno del programma. A tal riguardo, Amadeus ha lasciato uno spiraglio aperto. Attualmente, infatti, lo showman non sembra essere parte integrante della trasmissione. Tuttavia, nulla è mai detto quando si tratta di Fiorello. Successivamente, poi, il presentatore ha parlato anche delle due co-conduttrici da poco annunciate e dei bidi in gara. Amadeus fa confessioni sul Festival di Sanremo 2023. La verità sulla partecipazione di Fiorello. In una recente intervista Amadeus ha fatto qualche interessante spoiler sul Festival di Sanremo 2023. Il conduttore ci ha tenuto a porre l'accento sulla necessità di mantenere viva la rivoluzione all'interno di un programma così longevo quale il Festival. A tale riguardo, ha detto, mantengo la rivoluzione, ma non per fare il rivoluzionario, ma per essere contemporaneo. In merito alla presenza di Fiorello all'interno della trasmissione, invece, Amadeus ha ammesso che, attualmente, il conduttore di viva Rai 2 non sembra essere annoverato nel cast. Tuttavia, le cose potrebbero anche cambiare all'ultimo minuto e lo showman potrebbe decidersi a fare qualche apparizione in qualche puntata del programma incentrato sulla musica più atteso dell'anno. Amadeus parla dei big in gara Sanremo 2023 e delle co-conduttrici Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Nel corso dell'intervista, poi, Amadeus ha svelato anche quale strategia ha adoperato per convincere alcuni big a gareggiare al Festival di Sanremo 2023. In merito a questo argomento ha detto che è tutto merito del lavoro svolto negli anni passati. In merito alla scelta di unire big e nuove proposte. Poi, Amadeus ha fatto un'analogia con il calcio. Ci sono campioni nati nel 2001 che giocano la finale dei mondiali. Penso che il Festival debba fare la stessa cosa. Pur essendo fondamentale una quota imprescindibile di big, devo puntate fortemente sui giovani. Infine, Amadeus, che recentemente ha ironizzato insieme a Fiorello a Viva Rai 2 sulla squalifica di una concorrente, ha speso anche qualche parola per commentare le due co-conduttrici annunciate. Su Chiara Ferragni ha detto che è una donna molto entusiasta e disponibile. In grado di mettersi in gioco anche in ruoli che non le appartengono. Su Francesca Fagnani, invece, ha detto che apparentemente può sembrare una belva, ma in realtà è una donna molto gentile e garbata.